io amo correre andrei fino al polo nord correndo l'auto la uso poco per lo stretching più che altro per questo cercavo una polizza auto che costasse il meno possibile sono andato su facile punto it ho confrontato diverse assicurazioni e ho trovato la più conveniente per me ho chiesto anche consiglio a giulia in negozio questa è perfetta per te e ho risparmiato quasi 500 euro facile punto it facile punto it facile punto it risparmiare sulla polizza auto è facile